Tra pochi giorni il mercato chiuderà i battenti, ma il Pescara si muove ancora per rinforzare la rosa con altri due elementi, un centrocampista ed un difensore centrale. Sono queste le richieste di Marco Baroni, dopo che Zampano è da considerarsi biancazzurro a tutti gli effetti. Per il centrocampo nel Chievo, oltre a Finazzi, c'è in uscita anche Guano, obiettivo dello scorso anno per i biancazzurri. Il bolognese Casarini, ex lanciano, ha il vero desiderio però di Baroni, ma l'ingaggio esoso rappresenta un problema. Nelle ultime ore sono tornati così di attualità i nomi di Memushai e del Modenese Signori, per quanto concerne il reparto difensivo invece Felice Piccolo resta il favorito con il genuano Izzo a seguire. Sono tanti giocatori che nelle ultime ore di mercato potrebbero cambiare casacca e per questo sono diversi i nomi accostati alla società biancazzurra. Claudio Terzi del Parermo sarebbe un lusso e se dovesse lasciare l'isola, il Pescara potrebbe farci un pensierino. Intanto Marcel Buchel, lungamente corteggiato dai biancazzurri, si sta allenando col Bologna. Lunga la lista di estimatori per Riccardo Maniero, oltre a Lentella ci sono anche Latina e Brescia. In uscita i Pontini pensano in alternativa anche a Ferdinando Sforzini, che è seguito anche dal Catania, dalla Salernitana e dal Messina. Intanto dopo il Livorno anche il Modena ha sondato la strada per Cutolo, ma il club toscano è favorito in caso di addio dell'esterno al club di Sebastiani. Il Pescara ha intanto depositato in Lega il contratto di Cristian Cheghi, dello Scandici, formazione toscana. Il giocatore, un attaccante italo-albanese, arriva in Abruzzo a titolo temporaneo. Anche a Lanciano si guarda al mercato, la società frentana punta ancora a qualche rinforzo. Il direttore sportivo Luca Leone prosegue a tenere vive alcune trattative, ma è probabile che se qualche arrivo ci sarà, verrà definito nelle ultime ore di mercato. La società frentana ha poi la necessità di sfoltire l'organico, con quattro portieri e molto probabile la cessione di Cassadei Aridità. Intanto nella gara di Coppa Italia con il Genoa la squadra ha destato un'ottima impressione, che lascia ben sperare, per il difficile esordio di campionato che vedrà i rossoneri di scena al Cibali di Catania, contro una delle favorite per la conquista della promozione. Grazie a tutti.